Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio della Biblioteca della Fotografia. Questa è la seconda volta che rifacciamo il video perché prima non è venuto. Ospite con me c'è Silvia Galeazzo, una truccatrice di Torino. Nell'info box potete trovare tutti i riferimenti al suo sito e ai suoi social. E oggi vi parliamo di Joyce Tennyson. Di Joyce Tennyson, A Life in Photography, edito per i tipi della Little, costa 36 euro. È un libro che parte con una serie di ritratti in chiave alta in bianco e nero di donne molto eterei e molto romantici. Hanno un po' il gusto delle famose ofeglie che si sono viste per un po' di tempo e che tuttora continuano ad essere abbastanza in voga. Il libro continua con una tecnica che credo sia il soft focus o comunque probabilmente ha fotografato dietro una superficie come può essere un vetro leggermente opaco perché le foto che si vedono hanno un aspetto come se fossero un dipinto olio. Nella terza parte l'autrice fotografa delle donne mature che secondo me ha fotografato con delle sessioni di scatto abbastanza lunghe visto che è riuscita proprio a entrare in profonda intimità col soggetto regalandoci una bellezza che ha molto più a che fare con la bellezza interiore che con la bellezza esteriore. Il libro si chiude con degli autoritratti della fotografa e probabilmente con degli autoritratti con il suo figlio o con la sua famiglia. Oggi ospite Silvia Galeazzo perché in un libro che è di una fotografa e si riconosce che è una fotografa dalla sensibilità di tutta l'opera secondo me nessun uomo potrebbe entrare in tale intimità con un'altra donna e tirare fuori queste foto e avere un risultato così poetico. E si parla di bellezza non standard, bellezza quotidiana. Bellezza quotidiana. Per tutto il libro le donne ritratte non sembrano truccate o sembrano avere un trucco molto leggero. Da truccatrice tu lavori con modelle, con spose, con persone che vogliono semplicemente delle foto, un trucco per uscire la sera e quando il trucco deve mostrare qualcosa o deve essere evidente come uno smocchiaio, un rossetto molto acceso e quando invece il trucco deve essere il più pulito possibile, anzi invisibile. Beh, credo che intanto sì, dipende un po' dal progetto del fotografo o dal tipo di lavoro che si sta facendo se c'è una committenza che richiede determinate cose. Quindi bisogna vedere quello. Altrimenti, almeno per quanto riguarda me, se si tratta di una cliente comune, una sposa ad esempio, io ascolto molto lei, il carattere che ha, come desidera essere. Quando si tratta di una sposa ad esempio in questo determinato caso, io cerco di conoscerla, di parlarle, di chiederle come si trucca lei abitualmente e quindi di stare un pochino nel suo mood. Le chiedo anche di farmi vedere delle immagini di trucchi che le piacciono per capire un po' il suo carattere e cosa le piace come trucco. E poi cerco sempre di mediare quello che lei mi dice di volere con il mio gusto e con quello che vedo bene su di lei. Comunque ogni viso mi ispira qualcosa, c'è chi è più dolce, c'è chi è un po' più sensuale, pulito, insomma ogni persona ha un carattere. In genere io, io personalmente non amo mascherare troppo i visi, non amo i trucchi troppo colorati, amo anche i trucchi un po' forti, però senza mascherare un viso. Mi piace tirare fuori quello che è il carattere di quel viso senza doverlo pitturare, mascherare, metterci sopra un'altra persona, sebbene il trucco possa essere anche quello in certi casi. In questo libro le donne non sono quasi mai truccate, se sono truccate si sono probabilmente truccate da sé e secondo me va benissimo, nel senso che anche io in alcune foto, che siano ritratti, che siano anche modelle, spesso non le trucco molto. Cerco proprio di tirare fuori la loro bellezza naturale, ci sono certe modelle, anche i giovani sono bellissime senza essere stravolte dal trucco. Credo che un pochino anche la moda stia andando in questo senso, in questa direzione. meno trucchi mascheroni e più trucchi naturali. E poi ci sono anche i social media che invece hanno un'altra direzione, insomma c'è un po' di tutto. Io personalmente amo il trucco, non necessariamente naturale, ma che faccia uscire la persona. Noi ci siamo dimenticati di dirvi che insieme a questo video abbiamo il limoncello. perché quando ci vediamo con Silvio è un po' il limoncello, il nostro martedì di fasi, degli ubriaconi. Un'altra cosa che ho notato in questo libro è che, oltre ad avere dei volti molto naturali, molto comuni, alcuni volti presentano forti imperfezioni. Hanno un naso molto pronunciato, hanno proporzioni del corpo, che potrebbe essere il mento, la fronte, che sono probabilmente difficili da trattare e hanno anche pelli mature, rughe molto evidenti, perché alcune donne probabilmente ritratte, le leggiano sui 75-80 anni. Qual è l'approccio del trucco rispetto all'imperfezione? Allora, io anche in questo caso credo che dipenda da truccatore a truccatore e sempre dal tipo di lavoro. A scuola ti insegnano il trucco correttivo, che è quel trucco fatto di chiari e scuri, un po' quello che oggi viene chiamato il contouring, che va a correggere alcuni lineamenti, dei difetti, eccetera, eccetera. Si usa soprattutto in fotografia, perché è un'immagine statica, quindi posso creare anche delle ombre molto forti. Io personalmente, io, non credo nel trucco correttivo. Non ci credo proprio, nel senso che, sì, qualche difettuccio può essere coperto, copro le occhiaie, copro i brufoletti, però credo che non ci sia nulla di brutto da nascondere in un viso. I visi sono tutti belli, ci sono solo pregi da esaltare. Quindi, appunto, tolgo l'occhiaia, illumino un po' il viso, eccetera, eccetera. Però non andrò mai a, io almeno, a snellire eccessivamente un naso, a creare zigomi troppo scavati, se non è richiesto. Davvero, non ci sono difetti in un viso, ci sono solo pregi da esaltare. Io, da quando faccio questo lavoro, da qualche anno, per quanto riguarda me, ho fatto davvero un po' pace con la mia faccia. È quello che cerco anche di trasmettere alle donne, alle ragazze che trucco, anche alle signore di una certa età, e di che col trucco puoi fare pace con la tua faccia, senza nasconderti, camuffarti, mascherarti, ma puoi vedere quello che c'è di bello nel tuo viso, con un po' di trucco messo nei punti giusti. Io mi allaccio a questo discorso perché comunque Photoshop e il fotoritocco di ritratto hanno più o meno lo stesso approccio. Innanzitutto consiglio a tutti i fotografi che fanno fotoritocco di persona di documentarsi sul trucco e di parlare con una truccatrice perché è importantissimo capire dove cadono le ombre, che tipo di materiali vengono utilizzati, come la truccatrice lavora, affinché la postproduzione non vada né a stravolgere né a creare un'altra faccia su un trucco già creato. È in un ritratto un buon approccio e regalare una buona notte di sonno. Significa alleggerire quelli che sono i segni del viso senza toglierli, significa creare delle zone di attenzione e distogliere l'attenzione e per me significa rimuovere completamente tutto ciò che è transitorio, ma sostanzialmente solo i brufoli e le piccole imperfezioni perché chiaramente se uno si presenta il giorno del servizio fotografico con un brufolo poi la settimana dopo non ce l'ha più. Ma l'approccio di piallare le pelli, di uniformare tutto, addirittura lo si applica molto spesso anche sui bambini, su persone o su modelle che non hanno delle pelli veramente perfette. E qual è il tuo approccio invece nelle persone che dicono di non volere il trucco? Facciamo un trucco che non sembri trucco, nel senso, vabbè, sono truccatrice e per me un po' di trucco nella vita ci sta sempre, quasi sempre, un pochino. E quando mi capita a qualcuno che dice non voglio essere truccata, beh, l'ascolto e... e te ne freghi. No, la trucco, ma in modo che non se ne accorga. Uso anche prodotti che a livello... Stoppici. Uso prodotti che è anche a livello tattile, si sentono poco, molto leggeri, molto confortevoli, freschi, eccetera, eccetera. E funziona. Devo dire che mai nessuno mi ha detto eh, no, sono sempre tutte contente. Io chiuderei questo video con una riflessione che rende il mio lavoro e il suo completamente inutili. Nel senso che molte di le donne ritratte non hanno in effetti una bellezza sfacciata da esibire come quelle delle modelle, come quelle più patinate delle riviste e non hanno neanche trucchi straordinari da lodare. A volte hanno anche chili di troppo, parecchie rughe, difetti evidenti. Quello che rende bellissime queste foto e secondo me è un buon punto di partenza per capire che cosa sia il ritratto è che tutte le persone ritratte hanno un volto sereno, hanno un volto molto rilassato e questo lo si ha quando dopo un po' di anni che sei al mondo fai pace con te stesso. Come dicevi tu, fare pace col proprio volto, fare pace proprio con tutto il fisico. Il tempo passa, per alcuni passa molto bene, per altri un pochino meno gentile, arriva un momento in cui se facciamo pace con i nostri difetti, con il nostro carattere, con le nostre aspettative di bellezza e di apparenza, inaspettatamente diventiamo più belli. Chiaramente il video si è corrotto nell'ultimo minuto di registrazione, io quindi porto i saluti miei, i saluti di Silvia Galeazzo, nell'info box potete trovare tutti i nostri recapi di social se vi è piaciuto questo video e se volete lasciarci un commento su cosa pensate voi che sia la bellezza, qui sotto potete avere libero spazio alla vostra dialettica. A presto e al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!